Conferiamo a Don Luigi Mazzucato la laurea magistrale ad onore in istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, classe LM52, delle lauree magistrali in relazioni internazionali. Personalmente mi vedo qui, un piccolo uomo, davanti a uno scenario che mi impressiona e mi riempie di confusione. Io non sono un grande dell'arte, della cultura e della scienza. Non sono un maestro in diritti umani per dare lezioni. Posso portare la testimonianza di una storia che mi ha coinvolto profondamente. Sono stato ordinato prete nel 1950. In agosto del 1955 il vescovo mi ha detto adesso vai a fare il direttore del CUAM. E ci sono andato e non mi sono mai pentito. Il primo viaggio è stato molto commovente per me. Appunto perché era il primo, la prima volta quindi che riuscivo ad andare in Africa e ho avuto anche qualche difficoltà di ottenere il permesso da parte del vescovo. Insomma, dice qua, vai in Africa a fare che cosa? E ritenevo invece molto importante andare a trovare le persone che lavoravano allora in Africa, anche in Uganda, partecipare al primo convegno di medici CUAM in Africa. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.